aveva mandato a spacciare con il clan Elia quando fu arrestata bisogna ricordarlo a tutti questa brava bambina è esaltata, è osannata dalle mamme come lei il pallonetto, le donne dello spaccio quelle che hanno occupato abusivamente le case levandole le vittime a segnatare che hanno cacciato dicono ha ragione, c'ha una figlia città bene, noi dipenderemo la città dall'arrivo di Attila e degli Uniti ma tutti hanno andato a chiedere perdono a Gesù di tutto il male che hai fatto a tutti noi cittadini napoletani hai capito com'è? io preghero per te perché tu stai a chiedere stai tutti indemoniati e indiavolati c'hai la faccia di un demone stai rovinato